ora guardiamo i parametri di configurazione le opzioni di configurazione di EasyStone che si trovano dentro file e configura e abbiamo diverse opzioni iniziamo con generale la configurazione del programma generale si apre con tre finestre aspetto generale e OpenGL per quanto riguarda aspetto possiamo scegliere se vedere o meno la barra degli strumenti mettendo il flag o meno la barra degli strumenti è questa qua su in alto la barra di stato che è quella in basso e la barra di modalità che è questa sulla destra che in questo momento è a destra possiamo anche decidere di spostarla sulla sinistra possiamo scegliere la lingua di riferimento fra le opzioni che vedete in finestra e possiamo decidere di attivare singola copia di EasyStone questa opzione se viene attivata permette di aprire una sola copia del programma mentre se viene disattivata permette di aprire più copie del programma ma queste copie aperte dopo la prima non possono apportare alcuna modifica ai parametri presenti nel menu magazzino nella finestra generale abbiamo invece la possibilità di scegliere il colore associato ad ogni sfondo o griglia o pezzo che abbiamo attraverso questa finestra di colori tavola di colori possiamo scegliere e con il comando di default assegnare ad ogni entità il colore standard previsto dal programma possiamo definire la griglia che vedete qui nell'area CAD se disabilitata o una griglia normale o una griglia tratteggiata le dimensioni che permettono di definire la lunghezza del lato dei quadrati della griglia cioè la distanza tra le due linee successive della griglia e il numero di divisioni cioè permette di definire il numero di quadrati in cui si divide il lato di un quadrato della griglia non ingrandita quando si esegue lo zoom possiamo scegliere di flegare su riferimento se vogliamo mantenere e visualizzare nell'area grafica il riferimento cartesiano che indica lo zero degli assi e possiamo flegare su righello se vogliamo visualizzare il righello presente qui in basso a sinistra le unità di misura che possiamo scegliere sono in millimetri e in pollici abbiamo un log level che è un comando che permette di definire il livello di log cioè definisce quali informazioni il programma deve salvare in appositi file possiamo scegliere fra 0, 1, 2, 4, 10 e 100 in cui 0 non viene salvato alcunché con 1 viene salvato un file di log con 2 viene salvato un file di debug e con 4, 10 e 100 vengono salvati sia un file di debug che un file di log infine possiamo avere possiamo avere un backup attraverso la scelta fra 1 minuto, 2 minuti, 5, 10 minuti, 1 ora e 2 ore e il backup verrà utilizzato quando il programma registra una chiusura anomala e quindi alla riapertura chiede se recuperare il progetto corrente prima della chiusura quindi questo comando permette di definire la frequenza con cui il programma esegue un backup del progetto corrente cioè lo salva praticamente automaticamente ultima finestra OpenGL selezionando questa tab il programma visualizza questa pagina corrente dei parametri che permettono di modificare le impostazioni OpenGL cioè le impostazioni che riguardano la scheda grafica colori Zbuffer e driver generico colori significa che possiamo definire il numero di colori utilizzati cioè la relativa dimensione in bit di ogni pixel con Zbuffer posso definire la profondità in pixel della coordinata Z nella realizzazione della grafica tridimensionale e infine driver generico questa opzione se attiva permette di utilizzare il driver generico invece di quello specifico della scheda grafica installata sul computer che si sta utilizzando che si sta utilizzando